No, sta fuori, che finisca il mondo, vi è suori. Adesso Castagnetti lo faccio mettere. Vogliamo di Castagnetti. Questo è Radio Radicale, ve lo portate. Sono Rich Conti, direttore dell'Ansa, Vigo Di Giovanni, il suo direttore, e il collega del vostro. Il campo di Berlusconi, di Nala Canale di Luì, o il governo pro, di business intelligence, ha un po' l'idea di vedere che cosa è che cosa è.